Ragazzi vi ricordo di premere la campanellina che trovate sul mio canale accanto al tasto iscriviti, mettere la spunta sulla casella e premere salva per restare sempre aggiornati sui contenuti del mio canale. North Yankton 2004 Nella cittadina di Ludendorff i rapinatori Trevor Phillips, Michael Townley e Brad Sneeder effettuano una rapina presso un deposito locale. Tuttavia durante la fuga Brad e Michael vengono colpiti da un cecchino e Trevor è costretto a fuggire, scomparendo dalla circolazione. Michael, creduto morto da Trevor, viene messo sotto il programma protezione testimoni dal Federal Investigation Bureau, FIB. Lui e la sua famiglia, composta dalla moglie Amanda e dai figli Tracy e James, vengono quindi mandati a vivere nella città di Los Santos, nello stato di San Andreas, ed il loro cognome viene cambiato in The Santa. Nove anni dopo, nel 2013, Franklin Clinton, malavituoso membro di una gang, riceve l'ordine da Simon Nietarian, titolare del concessionario in cui lavora, di recuperare per modo di dire un'auto da James The Santa, figlio di Michael, poiché quest'ultimo è in ritardo con il pagamento delle rate della macchina. Avendo capito che il figlio sta per essere derubato, Michael si nasconde nell'auto che Franklin deve recuperare. Il ragazzo viene quindi sorpreso da Michael che lo costringe con la forza ad irrompere con l'auto nella concessionaria per un regolamento di conti con Simeon. Franklin obbedisce a Michael e per questo motivo viene licenziato, ma tra i due nasce una solida amicizia. Quando Michael scopre che sua moglie lo sta tradendo con il maestro di tennis, lui e Franklin inseguono l'amante fino ad una villa, che Michael demolisce in preda alla rabbia. Tuttavia la villa apparteneva a un trafficante di droga messicano, Martin Madrazzo, che esige un risarcimento dai due per i danni subiti. I due saldano il debito con Martin grazie al denaro ottenuto da una rapina in una gioielleria, organizzata con l'aiuto di un vecchio amico di Michael, Lester Crest. A questo punto Dave Norton, un ispettore dell'FIB, si presenta a casa di Michael per avvisarlo delle conseguenze che questo gesto potrebbe comportare. Infatti Trevor Phillips, l'altro sopravvissuto della rapina di Ludendorff, che ora vive a Sandy Shores nella contea di Blaine Country e gestisce, insieme a Ron, Wade e Chef, la Trevor Phillips Industries, una società dedita a qualsiasi attività illegale, tra cui la vendita di droga ed il contrabbando di armi. Guardando la tv, viene a sapere del colpo alla gioielleria e, avendo capito che Michael potrebbe essere coinvolto, decide di partire alla volta di Los Santos, assieme al suo amico Wade, per verificare se effettivamente sia stato Michael il responsabile del colpo. Prima di partire, però, sistema alcune faccende con i Lost, banda di motociclisti che intralciano il suo business, uccidendo il loro capo e conquistando il loro aeroporto, che diventerà di proprietà dello stesso Trevor. Allo stesso tempo, porta avanti gli affari con un gruppo di cinesi che sono interessati ad acquistare un'enorme quantità di armi, che però non vengono trattati proprio bene da Trevor, visto che finiscono in un freezer per alcune ore e dunque decidono di entrare in affari con i fratelli O'Neal. E lascio indovinare a voi che fine fanno quelli che ostacolano Trevor. Ecco, gli uccide gran parte della famiglia e gli brucia la fattoria. Fatto ciò, Trevor è finalmente pronto a partire per Los Santos alla ricerca di Michael. Ovviamente prima di partire si toglie lo sfizio di far saltare in aria tutto l'accampamento dei Lost, di cui non rimane quasi nulla. Trevor dunque arriva a Los Santos e viene ospitato, anche se in realtà non è il termine propriamente corretto, dal cugino di Wade. L'inaspettato ritorno di Trevor rende Michael sempre più intrattabile e nervoso, il che spinge la sua famiglia a lasciarlo. Franklin contempla l'idea di separarsi dall'amico Lamar Davis, caduto sotto l'influenza di Stretch, un gangster che segretamente si è unito a una gang rivale, i Ballas, e che tenta ripetutamente di uccidere Lamar per dimostrare fedeltà ai nuovi compagni. L'FIB scopre che Michael è coinvolto nella rapina alla gioielleria e per evitare l'arresto viene costretto dagli agenti corrotti dell'FIB, Dave Norton e Steve Haynes, a portare a termine una serie di operazioni insieme a Franklin e Trevor per ostacolare un'agenzia rivale, l'IAA, International Affairs Agency, controparte della CIA. Le due agenzie, infatti, sono coinvolti in una guerra burocratica per determinare chi dovrà ricevere un aumento dei fondi da parte del governo. Sotto la guida di Steve, i tre attaccano la sede centrale dell'IAA per rapire Ferdinand Kerimov, noto come Mr. K, in quanto conosce la posizione del presunto terrorista Tahir Javan, che verrà ucciso successivamente da Dave e Michael. Inoltre colpiranno anche un furgone portavalori che trasporta dei fondi destinati all'IAA e consegneranno il bottino al contatto di Steve. Devin Weston, un capitalista miliardario. Devin offre ai tre protagonisti il compito di rubare alcune auto di lusso. In cambio, fa conoscere a Michael Solomon Richard, proprietario della casa cinematografica Richard's Majestic Productions. Michael aiuterà Solomon nella produzione del suo nuovo film, Meltdown, diventandone il produttore esecutivo. Michael e Trevor sono costretti a nascondersi temporanamente a Sandy Shores, quando dopo aver eseguito un compito per conto di Martin Madrazzo ed essersi visti rifiutare il dovuto pagamento, Trevor rapisce la moglie del boss. Durante il loro esilio, i due e Franklin ricevono un altro compito dall'FIB, che consiste nell'intrufolarsi all'interno dei laboratori di ricerca Human, per rubare del gas nervino che l'IAA ha intenzione di usare per simulare un attentato terroristico allo Santos. Per finanziare l'operazione, i tre organizzano, sempre con l'aiuto di Lester, una rapina presso la banca della cittadina di Palito Bay e con i soldi accumulati riescono a rubare il gas nervino. Trevor, con l'aiuto di Michael, colpisce un convoglio della Mary Weather e trova una preziosa opera d'arte antica. Michael cerca di convincere Trevor a consegnare a Martin la moglie e l'opera d'arte, così da poter far pace con il boss messicano. Ma l'uomo, che si è innamorato della donna e non vuole perdere il bottino, si rifiuterà. Michael allora gli promette che se consegnerà le due cose al boss, si organizzerà con Franklin e Lester per realizzare il loro più grande sogno, rapinare la Union Depository, la principale banca di Los Santos, nonché la più grande della West Coast. Trevor accetta e a malincuore consegna la moglie e l'opera d'arte a Martin. I due quindi tornano a Los Santos. Trevor, in cerca di un nuovo posto in cui stare, prende il controllo dello strip club Vanilla Unicorn, che diventerà la base dei preparativi per il colpo promesso da Michael. Tuttavia Trevor scopre che Brad, l'altro complice della rapina a Ludendorff, non è in prigione come ha sempre creduto, ma è morto dopo essere stato colpito dal cecchino e seppellito nella tomba usata per simulare la morte di Michael. Il cecchino che ha ucciso Brad è infatti l'agente Dave Norton, che al tempo si accordò con Michael per far fallire il colpo e simulare la sua morte, così Michael avrebbe potuto iniziare una nuova vita con la sua famiglia, mentre Dave si sarebbe preso tutti i meriti per l'uccisione di Michael Townley. Trevor si sente tradito da Michael e lo minaccia a morte. I due troncano così i rapporti e i preparativi per la Union Depository vengono sospesi. Gli agenti Steve e Dave si ripresentano e affidano a Michael e Franklin un ultimo lavoro. Steve è tenuto sotto stretta sorveglianza dai suoi colleghi a causa dei suoi metodi poco ortodossi. I due dovranno infiltrarsi nella sede centrale dell'FIB e cancellare dai server ogni prova che possa essere usata contro di lui. Durante l'assalto Michael ne approfitta per cancellare anche i dati a suo sfavore, liberandosi dunque dai ricatti di Steve. Dopo l'assalto Dave si incontra con Michael al Courts Center con l'intenzione di aiutarlo a liberarsi di Steve, ma quest'ultimo li raggiunge insieme ad una divisione corrotta dell'FIB e cercherà di arrestare Michael dandogli la responsabilità per le azioni commesse precedentemente. Nello stesso momento arriva l'IAA con intenzione di arrestare tutti e tre, seguiti a loro volta dalla Mary Weather che sta dando la caccia a Michael per l'assalto al convoglio di opere d'arte. Le tre agenzie iniziano a combattersi tra loro e Dave e Michael ne approfittano per scappare. Trevor li raggiunge e li aiuta a mettersi in salvo, affermando che solo lui ha il diritto di uccidere Michael. Pur non perdonando l'amico, Trevor accetta di portare a termine il colpo alla Union Depository per poi prendere strade diverse. La famiglia di Michael, dopo il periodo di allontanamento, decide di tornare a casa e di perdonare Michael dandogli una seconda possibilità. Questo si scuserà a sua volta e prometterà alla moglie e ai figli che cambierà in bene. I problemi però non sono finiti. La Richard's Majestic ha terminato le riprese di Meltdown e il film è pronto per una prima all'Oriental Theater. Devin Weston, uno dei principali azionisti, ha intenzione di boicottare il film, così da causare il crollo delle azioni e richiedere un ingente pagamento dall'assicurazione. Con il denaro ricavato, Devin comprerà le azioni del secondo principale azionista, il figlio di Solomon, e potrà autorizzare la demolizione dello studio per costruire un complesso di condomini. Dato che la polizza richiede l'impossibilità di completare il film, Devin affiderà all'avvocato Molly Schultz la bobina del film, che dovrà nascondere a Liberty City in attesa di ordini su come distruggerla. Michael si ribella a Devin e Furente insegue l'avvocato fino allo Santos International Airport. Raggiunto l'hangar, Molly verrà accidentalmente risucchiata dentro la turbina di un aereo, morendo. Michael recupera la bobina, anche se Solomon dirà a quest'ultimo che è stato tutto inutile in quanto è in possesso di copie digitali di backup. Intanto l'amico di Franklin, Lamar Davis, viene rapito dai ballas su ordine di stretch e portato da qualche parte nei pressi di Palito Bay. Franklin, con l'aiuto di Lester, rintraccia il possibile luogo in cui Lamar è detenuto, una segheria abbandonata usata come copertura per la produzione di droga dai ballas, e con l'aiuto di Michael e Trevor attacca la segheria e riporta Lamar allo Santos. Congedatosi dall'amico, lo raggiungono gli agenti Steve e Dave, che ordinano a Franklin di uccidere Trevor, in quanto considerato inaffidabile e pericoloso per lui e per Dave. Franklin si rifiuterà, ma i due lo invitano a pensarci. La sera stessa, Michael si reca assieme a Jimmy alla prima di Meltdown, ma mentre attendono l'arrivo di Amanda e Tracy, arriva anche Devin, che arrabbiato con Michael, annuncia ai due che, per vendicarsi del fallimento dei suoi piani e della morte di Molly, ha mandato a casa loro una squadra della Mary Weather per uccidere la moglie e la figlia. Michael e Jimmy abbandonano il cinema e raggiungono le due donne salvandole. Messa al sicuro la famiglia fuori città, Michael annuncia a Lester che i preparativi per il colpo alla Union Depositori possono ripartire. I tre protagonisti riescono quindi a mettere a segno il colpo del secolo. Dopo la rapina, Devin Weston si presenta a casa di Franklin e gli ordina di uccidere Michael, ma il ragazzo rivela a Devin che Steve Haynes gli ha ordinato di uccidere Trevor. Devin, quindi, costringe Franklin a scegliere chi uccidere dei due. A questo punto, in base alla scelta del giocatore, la trama proseguirà su uno dei tre filoni narrativi. Uccidere Trevor, uccidere Michael, oppure fare una follia e non uccidere nessuno dei due. Personalmente, io ho scelto l'opzione C, ossia non uccidere nessuno dei due. Dunque, Franklin decide di rifiutare l'ordine sia di Devin che di Steve e va a trovare Lester per ricevere un consiglio. L'uomo spiegherà a Franklin che l'unico modo per salvare i due è far fuori coloro che hanno ordinato la loro uccisione. Ma prima di farlo, bisogna togliere di mezzo tutti i loro uomini. Il piano consiste nel far credere alla divisione corrotta dell'FIB, capitanata da Steve Haynes, e alla sezione della Meriwether, controllata da Devin, che il bottino della Union Depository si trova in una fonderia nel quartiere di Cypress Flats per essere fuso, così da far venire in forza entrambe le agenzie e tendergli sul posto una trappola. Mentre Lester avverte Michael e Trevor ed organizza tutto, Franklin chiama la Mar per chiedere aiuto, il quale, appresa la situazione, accetta di aiutarlo. Raggiunta la fonderia, in cui sono presenti anche Michael e Trevor, i quali avranno una colluttazione che però verrà sedata da Franklin, i quattro attendono l'arrivo dell'FIB e della Meriwether. L'imboscata ha successo e il gruppo riesce ad uccidere tutti gli uomini al servizio di Steve e Devin. Lamar si congeda dal trio e i tre iniziano a dare la caccia ai nemici rimasti, così da chiudere definitivamente tutte le questioni aperte. Michael uccide Stretch, che continua a dare la caccia a Lamar assieme a un gruppo di Ballas. Trevor uccide Steve Haynes, che sta girando un provino sulla ruota panoramica del parco di Los Santos, mentre Franklin uccide Weicheng, l'ultimo rivale di Trevor rimasto. La richiesta da parte di Trevor di uccidere anche Dave Norton viene respinta da Michael, in quanto Dave è l'unico in grado di evitare che il trio abbia ulteriori problemi con l'FIB. Rimane solo Devin Weston, che viene rapito da Trevor, rinchiuso nel bagagliaio di un'auto e portato sulla scogliera vicino al Monte Ciliad. Michael e Franklin raggiungono Trevor e dopo aver preso un po' in giro Devin spingono l'auto giù dalla scogliera. L'auto stessa esplode e il miliardario muore incenerito. Ucciso Devin, i tre decidono di non lavorare più insieme, rimanendo però amici e tornando ognuno a casa loro, godendosi la parte del bottino della Union Depository. Questo video termina qui ragazzi, mi raccomando lasciate tantissimi like per sostenere questo mio progetto e commentate qua sotto dicendomi cosa ve ne pare di questo video. Mi raccomando condividetelo a tutti i vostri amici che non hanno mai giocato a GTA o che comunque possono essere interessati alla storia di GTA ovviamente in breve, in modo tale che gli rinfrescate un po' la memoria. Da Adria è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Bella!